sempre dal quinto giorno di ritiro qui a temù siamo qui con stefania zanoletti ciao stefania ciao a tutti quest'anno sarà il tuo sesto campionato con la maglia del brescia quanto la senti tua questa maglia beh tantissimo sono partita sei anni fa con un progetto importante e sicuramente l'anno scorso è stato il coloramento di un sogno portare lo scudetto nella mia città è stato qualcosa di incredibile e quindi sono veramente contenta e orgogliosa di indossare questa maglia state lavorando molto anche qui in ritiro sulla linea difensiva cosa state cercando di perfezionare? ma sicuramente stiamo lavorando molto anche perché appunto i meccanismi difensivi sono qualcosa di importante qualcosa su quale bisogna lavorare molto e anche con i due nuovi acquisti è importante comunque lavorare il più possibile per cercare di perfezionare appunto i movimenti che devono essere il più perfetti possibile la champions league offre ovviamente da un punto di vista fisico un impatto molto importante ritieni che la difesa appunto da questo punto di vista sia pronta? ma sicuramente stiamo lavorando per quello sappiamo che il palcoscenico internazionale è qualcosa di diverso rispetto al campionato italiano cercheremo di prepararci al meglio per poter affrontare in maniera positiva questa nuova esperienza grazie Stefania grazie a voi grazie 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 a tutti